e benvenuti ragazzi a questo nuovo episodio di ninja gaiden 3 pronti per vedere un po di massacro io sì che come il massacro lo faccio io appunto all right Grazie a tutti. 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 Vai così, seguenza. Ok, tutti eliminati. Grazie a tutti. Ok, qui sono sicura che il secondo di Zack Ryden. Grazie a tutti. Balle di fuoco. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Qua si perde, lo so già Ehi, che cos'è Cavolo, vabbè, comunque, è molto che devo fare metà vita Questo qui è a combattere il peggio di un'intera di tempo Ma ancora con ora, se no, è peggio Poggio il modo positivo, eh, non negativo Mette male Cavolo, se solo arrivassi al punto dove si combatte fuori Sarebbe una cosa grandiosa Vai, vai, vai Ok, ce l'ho fatta, penso Sì, è un po' troppo tardi, però che cavolo Cavolo, devo capire bene Come, come fa Da portare per gli attacchi Ok, dai Oh, bello, mi piace Lo che ce l'ho fatta Ma che cosa, cosa me ne frega che la macchina costava molto per la simulazione, non me ne frega un cavolo Ah, il fatto che ho conosciuto la vita, bene Questo perché era una simulazione Quindi la vita non era proprio vera, era simulata Oh, forse non lo so Ragazzi, che laborato è grande Vai, ecco, di visibili Ha, 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 ha Ha, ha, ha Due salivino salivati, è bellissimo E qui, ragazzi, mi piace Il dondore di, non so Lo spazio è molto largo Quindi si potrebbe essere, non so, un helicottero Oppure, non so, un battono del punto con Lanza missili Vediamo Ah Ok Tutte le mie, le mie due, le mie due opzioni che ho detto Sbagliate Ho già tornato da lontano Beh, doppietta Falle il cuoco Yeah credo che qui vuol consigliare è peggio di Kratos beh almeno io non uscite per rabbia guarda la p*** guarda la p*** guarda la p*** la buon volo e poi mi tacchano ancora no ma non ho delle palle sono dovuti uccidermi voglio vassalire un pochi secondi non vale per niente ok no 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 Ehi, il potente tipo l'ospo C***o, eh? Hai capito male C***o, eh? Hai capito male? C***o, questa qua è c***o, è una c***o che è rielo ninja? Quello che è rielo ninja che si abbassa facilmente Ehm... Ah, ok Ok, vai, vai Vai con una palla di fuoco! Ah, se va a fare uno Ok Ok Ehi... Ricordi, per favore Ehi... Oh no Ehi... 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 Ok Un bel tipo di nippo Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Brutate Tutto ditta carica, bella Un bel tipo di nippo Un bel tipo di nippo Ehi... Ma... Soli avreste Nella serie non finiscono mai, forse è la reda qui, il fungo, lui ammazza. Perciò, ii! ok e adesso cavolo lupato poi di scarico ti prego un salvataggio ti prego pari pari un attimo ok 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 continuiamo senza problemi anche se ho un problema qua, i missili vede che muoio e anche male o anche no mi sono salvato in estremis ah ok e uno e due e tre e e In partecipare Sì, fatti. Oh, come ti permetti? Io devo salvare. Eh no, eh. Ah, ah, ehi, ma dove sei? Ma ti vedi che vi ammazzo così con l'arco? Sì, vabbè, ma spazziamo. Ecco qua, bella mira. Eh, non mi potete spuggire. Vai così. Ancora. Ok, devi chiederti tutti quanti, non c'è più nessuno. Sì. Salvataggio. E questo episodio, ragazzi, finisse qui. Alla prossima. Ciao.